Pino ma te da piccolo che sport praticavi? Ho fatto un po di nuoto un po di scherma poi verso i 15 anni sono entrati in un bar dove facevano un torneo di stecca ed è stato lì che ho deciso di avvicinarmi al biliardo anche perché dove ero seduto prima non si vedeva un cazzo.